ciao a tutti e bentornati sul canale youtube di around the table anche oggi risponderemo alla domanda a che gioco stiamo giocando con un gioco che è arrivato precisamente il day one dagli amici di earthenis e che vi ho presentato nella scorsa edizione del tg table un board game che è arrivato un po' a sorpresa sugli scaffali dei negozi ma neanche troppo perché è arrivato in concomitanza del quattro maggio ovvero il made for we with you day quindi oggi scopriremo assieme star wars bounty hunter un gioco di star wars come sapete sono molto appassionato alla saga come potete vedere qui dietro e quindi sono sempre molto attratto da questi giochi che mi deludono spesso ma banda le cianci esitiamo la ciotola al tavolo e scopriamo star wars bounty hunters cominciamo il setup posizionando le quattro carte zona al centro del tavolo a cominciare dalla carta verde carta rosa carta azzurra e carta bianca queste carte hanno gli stessi colori dei quattro mazzi di carte presenti nel gioco i mazzi di carte hanno tutti lo stesso dorso ma sul fronte in verde abbiamo le carte bersaglio che andremo a mescolare e posizionare al di sopra della carta zona verde le carte con lo sfondo rosa sono le carte cacciatore di taglie le andremo a mescolare e a posizionare ovviamente al di sopra della carta zona rosa in azzurro abbiamo le carte contratto ancora una volta le mescoleremo per posizionarle al di sopra della carta zona corrispondente le carte con lo sfondo bianco sono quelle del mercato dei java che ancora una volta andiamo a mescolare per posizionare al di sopra della carta zona corrispondente recuperiamo i bellissimi token credito imperiale posizionavoli in un luogo del tavolo facilmente raggiungibile da tutti i giocatori seduti a round table l'ultimo giocatore che ha visto un film di star wars o il più affidabile diventerà il maestro della gilda quello a cui affideremo la carta riassuntiva e che avrà il compito di scandire le fasi del turno a questo punto tutti i giocatori seduti a round table prenderanno una carta da ogni mazzo sembra proprio che siamo pronti per giocare star wars bounty hunters è un gioco da due a sei giocatori che ci condurrà nell'universo di star wars in questo gioco dovremo ottenere il maggior numero di punti possibili catturando i ribelli dell'universo di star wars per farlo dovremo assumere i cacciatori di tagli più efferati acquistare droidi al mercato dei java ma anche ottenere dei contratti che ci faranno fare più punti senza dimenticare che nel mercato dei java ci possono essere delle casse davvero interessanti non dimenticate che i cacciatori di taglie vanno pagati e che i droidi hanno bisogno di crediti imperiali alla fine della partita che avrà ottenuto il maggior numero di punti sarà il cacciatore con più fama ma vediamo nello specifico come si gioca star wars bounty hunters ogni turno di star wars bounty hunters consta di tre fasi che i giocatori andranno a svolgere contemporaneamente spetterà al maestro della gilda che ha la carta riassuntiva scandire i tempi di ogni singola fase con la prima fase andremo a pescare una carta con la seconda fase andremo a decidere se attivare una carta che abbiamo in mano oppure a venderla con la terza e ultima fase andremo a passare le carte avanzate a sinistra ma prima di vedere le singole fasi del turno è il caso di analizzare le carte nel gioco sono presenti quattro mazzi di carte le carte che hanno uno sfondo verde sono i nostri bersagli più o meno i ribelli dell'universo di star wars anche se okira non è che la consideri proprio una ribelle in alta a sinistra troveremo i punti che otterremo grazie alla cattura di kira alla fine della partita subito sotto i punti troviamo il bonus che otterremo istantaneamente nell'istante in cui cattureremo la carta quando troviamo una carta con un più otterremo una carta contratto che sarà istantaneamente attiva sul nostro tavolo quando troviamo quest'altra icona otterremo tanti crediti imperiali quante sono le icone presenti su questa carta a sinistra troviamo i valori di scudo del personaggio valori verdi azzurri e rossi infine in basso troviamo quante carte kira sono presenti nel mazzo le carte con lo sfondo rosa sono i cacciatori di taglie e vengono definite carte di attacco in alto a sinistra troviamo i punti che ci verranno decurtati alla fine della partita nel caso in cui il cacciatore di taglie fosse riuscito a catturare il suo bersaglio a sinistra troviamo i valori di attacco della carta valori verdi azzurri e rossi esattamente gli stessi delle carte bersaglio soltanto che quelle delle carte di attacco sono pieni e quelle delle carte bersaglio sono vuoti le carte con lo sfondo bianco sono quelle del mercato dei jawa possiamo trovare dei droidi e anche in questo caso questi sono delle carte di attacco non ci faranno perdere punti alla fine della partita ma per essere attivate avranno bisogno di tanti crediti imperiali quanto sono riportati nell'icona in alto a destra come le carte cacciatori di taglia anche i droidi essendo carte di attacco hanno dei valori di attacco in verde azzurro e rosso e in basso troviamo quanti di questi droidi sono presenti nel mazzo mercato di java l'altra tipologia di carte che possiamo trovare nel mercato dei java sono le casse che ci permetteranno di fare punti alla fine della partita collezionandole anche in questo caso abbiamo un costo di attivazione in crediti imperiali in alto a sinistra troviamo i punti che ci faranno ottenere alla fine della partita e nel corpo della carta troveremo quante casse abbiamo ottenuto anche in questo caso questo numero di casse ci permetterà di ottenere cinque punti se otteniamo più casse disegnate all'interno delle carte rispetto ai nostri avversari con lo sfondo azzurro troviamo le carte contratto il manuale dice che per le prime partite non è il caso di adoperarlo ma non sono particolarmente complicate da capire basta quando calcolate il punteggio avere il manuale con voi le carte contratto sono di tre diverse tipologie abbiamo delle carte contratto che hanno due bersagli diversi in alto a sinistra troveremo i punti che otteniamo per ogni bersaglio di questo tipo che abbiamo catturato e in alto a destra quelli per quest'altro personaggio in più otterremo dei punti quelli riportati in basso per ogni due unico di personaggio riportati per l'appunto sulla carta in questo caso grogu e ciubè contratti con lo stesso bersaglio due volte i punti per ogni personaggio zeb in questo caso catturato e i punti per ogni due di zeb catturati otteneremo quindi dei punti in più bersaglio con cassa i punti per ogni personaggio che abbiamo catturato in questo caso la piccola omega e per il duo omega più casse troviamo i punti che otterremo in basso adesso che conosciamo un po' meglio le carte possiamo agire meglio quindi il maestro della gilda dirà pescate una nuova carta i giocatori seduti a roundtable potranno scegliere autonomamente una delle quattro carte in cima ai mazzi corrispondenti in questo caso io decido di prendere una carta bounty hunters cacciatore di taglie una volta che tutti i giocatori avranno completato la propria fase pesca delle carte il maestro della gilda passerà alla seconda fase ovvero quella dove decidiamo se vendere o attivare una delle nostre carte quando decidiamo di vendere una delle carte che abbiamo in mano semplicemente sceglieremo la carta e la andremo a posizionare al di sotto della carta zona corrispondente in questo caso scelto un contratto quindi la metto al di sotto della carta zona del contratto come vedete dall'icona presenti sulle carte zona prenderemo istantaneamente un credito imperiale che posizioneremo nella nostra area di gioco quando invece decidiamo di attivare una delle carte che abbiamo nella nostra mano innanzitutto dobbiamo controllare se ha un costo di attivazione in crediti imperiali generalmente quando dobbiamo attivarla semplicemente prendiamo la carta e la mettiamo in verticale nella nostra area di gioco ma nel caso delle carte che si trovano nel mercato dei java queste necessarano di un costo in crediti imperiali se riuscissimo ad avere tanti crediti quanto riportato nell'icona in alto a destra li pagheremo e posizioneremo la carta in verticale altrimenti potremmo comunque piazzarla nella nostra area di gioco ma in orizzontale quando riuscissimo ad avere i crediti imperiali in qualsiasi momento del turno per attivarla potremmo semplicemente metterla in verticale pagando i crediti imperiali quando decidiamo invece di attivare una carta bersaglio possiamo piazzarla tranquillamente nella nostra area di gioco se in un turno successivo decidessimo di giocare un'altra carta bersaglio potremmo tranquillamente farlo e se in un turno ancora successivo volessimo giocare una carta cacciatore di taglie potremmo decidere di giocare tranquillamente o contro il povero grogu o contro padme quando decidiamo di giocare una carta cacciatore di taglie verso un bersaglio dovremo posizionarla accanto alla carta che abbiamo deciso di bersagliare facendo in modo che le statistiche di colori corrispondenti si avvicinino in un turno successivo potremmo anche fare in modo di ingaggiare padme facendo la stessa cosa se in un turno ancora successivo decidessimo di dare una mano a chad bain a catturare grogu dovremmo e volessimo piazzare una carta droide ovviamente dovremmo pagare il suo costo in crediti imperiali e dovremmo sovrapporre quest'ultima carta alla precedente giocata facendo in modo di lasciare scoperti soltanto i valori di attacco in questa maniera ma se decidessimo di cominciare dai cacciatori di taglie e in un turno successivo decidessimo di giocare un nuovo cacciatore di taglie o un droide di attacco dovremmo fare in modo che quest'ultimo dia sempre una mano a quello precedentemente giocato i bersagli dovrebbero sempre essere attivati contro i cacciatori di taglie in gioco in questa maniera per catturare un bersaglio dovremmo fare in modo che le statistiche di attacco delle carte di attacco per l'appunto eguaglino o superino quelle del bersaglio in questo caso per catturare grogu abbiamo bisogno di un altro punto verde un punto azzurro e ben tre punti rossi in un turno ancora successivo dovremmo giocare lui e poi lui come notate nonostante sia lo stesso cacciatore di taglie ha le statistiche differenti quando riuscissimo a catturare un bersaglio prenderemmo la carta bersaglio e la posizioneremmo sopra le carte di attacco a lasciar scoperti i valori che verranno decurtati alla fine della partita calcolando il punteggio in questa maniera a questo punto andiamo a vedere un turno completo quindi in cui io andrò a prima di tutto prendere una carta dopodiché sceglierò di giocare questa carta che mi consente di catturare grogu in questo caso grogu ha anche un bonus quindi oltre a prendere i punti e a mettere la carta qui posso ottenere un credito imperiale grazie a questo credito imperiale sono bellissimi posso attivare la carta cassa che come vi dicevo mi farà ottenere punti alla fine della partita il credito così ottenuto lo do subito alla banca le quattro carte che avanzano le passo a sinistra oh grazie e possiamo cominciare un nuovo round una carta contratto può sempre essere giocata attiva nella propria area di gioco e ci consentirà di fare punti alla fine della partita queste altre quattro carte le passo a sinistra e ricevo queste altre quattro carte quando un giocatore cattura il suo quarto obiettivo scatta la fine della partita quindi il maestro della gilda gli darà un credito imperiale e una nuova carta contratto che sarà immediatamente attiva non molto utile tutti i giocatori seduti a roundtable potranno svolgere altri due turni a grazie completati i due turni supplementari possiamo passare a calcolare il punteggio e ci verrà in aiuto il blocchetto presente nel gioco andiamo a segnare nella parte gialla i nomi e quindi cominciamo a calcolare i punti dai bersagli che abbiamo acquisito sommiamo tutti i numeri gialli presenti sulle carte che abbiamo per l'appunto catturato quindi 12 di ciube e 18 di grogu sono ovviamente 30 e altri 11 di ciube sono 41 e 15 di un altro grogu 41 e 15 56 passiamo alle casse andremo a sommare i punti in alto a sinistra delle carte cassa ovviamente di quelle che abbiamo attivato quindi in questo caso solo due punti e lo scriviamo nella parte principale del blocchetto quindi qui otterrà 5 punti in più il giocatore che avrà più casse disegnate all'interno della carta cassa ovviamente attiva quindi in questo caso io ne ho quattro lui ne ha due e lui ne ha una sola quindi vado a segnare pure i 5 punti nel caso più giocatori avessero avuto lo stesso numero di casse disegnate all'interno della carta cassa dovrebbero condividere i 5 punti a questo punto passiamo ai contratti come vi dicevo i contratti sono di diversi tipi in questo caso ho un punto in più per ogni ciubecca catturato e due per ogni grogu catturato quindi 1 2 4 6 e più 3 per la coppia quindi 6 e 3 12 punti di contratti a questo punto andiamo a pagare i nostri cacciatori di taglie nella parte superiore di ogni carta cacciatore di tagli in vista c'è un meno e un numero quindi andiamo a calcolare quindi 3 e 2 5 8 11 15 19 21 26 ovviamente quelli che non hanno catturato il loro obiettivo non vanno pagati 26 quindi 56 56 più 7 sono 63 più 12 75 meno 26 dovrebbe essere 49 ovviamente il giocatore che ha avuto il maggior numero di punti è il vincitore in caso di parità vincerebbe il giocatore che ha più crediti imperiali e se persistesse un'altra situazione di pareggio ma fate un'altra partita e questo era star wars bounty hunters devo dire che il gioco all'inizio non mi aveva colpito particolarmente anzi lo trovavo un pochino scialbetto però dopo averlo provato ho capito che questo gioco non è affatto male come avete visto fondamentalmente tramite un sistema di draft dovremo giocare dinanzi a noi delle carte che dovranno essere cacciate e delle altre carte che gli daranno la caccia il gioco sembra molto basilare sembra molto banale ma funziona benissimo perché le carte sono bilanciate in maniera perfetta il fatto di aver inserito tre statistiche di difesa e quindi di attacco nelle carte statistiche molto differenti tra loro rende il gioco sempre estremamente teso non potremmo mai catturare i personaggi che ci faranno guadagnare più punti facilmente avremo bisogno di molte carte per catturare e però i cacciatori di taglie hanno un costo ovviamente i cacciatori di taglie se avete visto i film di star wars vanno pagati e vanno pagati adeguatamente e quindi non potremo caricare troppi cacciatori di taglie sullo stesso obiettivo se no sarebbe quasi inutile catturarlo quindi quindi dovremo anche pensare di assoldare o comprare dei droidi droidi che però costano credito imperiale che otterremo vendendo le carte oppure catturando altri personaggi e già perché questa è l'altra cosa interessante quando cattureremo dei personaggi potremo ottenere dei contratti che ci faranno fare punti alla fine della partita ma anche crediti imperiali e questo crea una situazione per le quali possiamo fare diversi combo nel video non ve li ho fatti vedere però effettivamente potendo attivare quando vogliamo le carte che necessitano di un pagamento per essere attivate potremo generare delle combo che ci porterà a catturare più personaggi contemporaneamente e la cosa non è affatto male l'altra cosa che forse era di più però aiuta ad avere un ventaglio di possibilità ampio sono le casse altre carte che bisogna pagare con i crediti però ci consentono di avere molti punti alla fine della partita perché non solo ci faranno fare punti con il valore in alto a sinistra ma anche ottenere i cinque punti bonus come alessandro borghese alla fine della partita per chi ne ha conquistati di più quindi anche una sorta di collector set e tutta questa serie di piccole cose rendono il gioco molto interessante potrebbe sembrare confuso potrebbe darvi qualche spunto di riflessione perché non capite benissimo come funziona ma giocandolo troverete una grande soddisfazione l'unico limite che ha è forse la bassa interazione al tavolo ma controllando attentamente il tavolo scegliendo anche quale carta prendere sapendo quelle che volete giocare potrete dare notevolmente fastidio ai vostri avversari ecco ancora una volta ci troviamo di fronte a un gioco che necessita tantissimo controllo per padroneggiarlo al meglio e per prendere grande soddisfazione dalla partita insomma un gioco che pensavo non fosse granché in realtà è riuscito a convincermi grazie al lavoro di frederick henry nel bilanciamento delle carte stesse una cosa che spesso i game designer non riescono a mettere bene a fuoco in questo caso il gioco funziona tantissimo proprio per questo genere di lavoro ma a questo punto mi interessa sapere da voi cosa ne pensate di star wars bounty hunters se l'avete sentito parlare se già l'avete provato e quali sono le vostre sensazioni a riguardo vi invito a scrivermi tutto qui in un commento su youtube ma anche su facebook instagram reddit tumblr x bluesky mastodont e tutti gli altri social che adoperiamo a questo punto non resta altro che salutarci per ritrovarci sempre qui sempre in un universo lontano lontano sempre qui sempre a more stanley a round table ciao a tutti